Mentre l'estate si scaldava con il sole e le spiagge affollate, i pettegolezzi del mondo dello spettacolo stavano per regalare ai fan un boccone succulento. Nel centro di questa deliziosa novità c'era la bellissima e talentuosa Laura Torrisi, che aveva fatto una misteriosa sparizione dalla scena televisiva da tempo immemorabile. Tuttavia, le notizie di questo ritorno hanno fatto impazzire gli appassionati di gossip. Laura Torrisi, l'indiscussa regina dello schermo, è tornata in grande stile. E questa volta lo ha fatto con un tocco culinario tutto suo. Sì, avete sentito bene. Laura si è lanciata in una nuova avventura come conduttrice di un programma culinario. La notizia ha creato un'incredibile eccitazione tra i telespettatori italiani, sempre affamati di buon cibo e tradizioni culinarie. Gli spettacoli culinari sono sempre stati un successo certo in Italia e Laura sembrava essere la candidata perfetta per portare una ventata di freschezza e talento in questo genere televisivo. Ma la sorpresa più grande è stata la comparsa di Leonardo Pieraccioni, l'ex compagno storico di Laura, nelle prime puntate del programma. Dopo una storia d'amore durata sette lunghi anni, Laura e Leonardo hanno deciso di separarsi, ma il bene della loro dolce Martina è rimasto al centro delle loro vite. Nonostante la fine della loro storia d'amore, Laura e Leonardo sono rimasti in ottimi rapporti. E questo si è manifestato chiaramente quando sono stati visti insieme nel programma. Leonardo Pieraccioni ha dichiarato, la cucina è il luogo dove tutto può accadere, specialmente se sei in compagnia di un giovane chef e di amici VIP ai fornelli. Queste parole hanno fatto sognare molti fan, ma per ora rimarrà solo un sogno. Per scoprire se Laura e Leonardo torneranno insieme nella vita reale, dovremo attendere con trepidazione. Nel frattempo, il programma culinario di Laura Torrisi continua a riscuotere un grande successo, dimostrando che la sua carriera televisiva è destinata a brillare ancora una volta. Inoltre, il ritorno di Laura sulla scena televisiva ha destato curiosità su cosa riserverà il futuro per la sua carriera e la sua vita personale. Mentre il suo talento culinario conquista i cuori degli spettatori, Laura Torrisi sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo emozionante nella sua carriera e nella sua vita. Resta da vedere quali sorprese ci riserverà questa affascinante regina dello spettacolo italiano. Prima di concludere, vorremmo ringraziarti per la visione del nostro video e invitarti a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per ricevere aggiornamenti sulle ultime notizie e curiosità. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato su eventi di grande rilevanza come questo. Inoltre, apprezziamo molto i tuoi commenti e feedback, quindi non esitare a lasciare un commento qui sotto con la tua opinione. Grazie per il tuo supporto.